Dire all'Italia di collaborare sul caso Ucraina, recapitare 7 miliardi e mezzo di dazi USA sull'export europeo e consegnare il messaggio chiaro che l'Ira nello stato aggressore del Golfo. Questi gli obiettivi della missione italiana del segretario di Stato americano, ma tra un incontro istituzionale e l'altro per Mike Pompeo c'è anche il tempo di visitare l'Abruzzo, più precisamente Pacentro, di dove originario. Un'occasione per la nostra regione anche per farsi conoscere oltreoceano. Sarà l'occasione anche per dire quali sono i nostri progetti per rendere sempre più stretto il legame con oltreoceano. Stiamo lavorando per portare all'aeroporto di Pescara dei voli intercontinentali diretti che possano consentire a tutti questi abruzzesi ed italiani nel mondo di poter tornare a scoprire l'Abruzzo e riscoprire le loro radici. Il fatto che lui abbia sentito il richiamo della sua terra di origine è una cosa che mi riempie di orgoglio a me personalmente, ma a tutti i cittadini di Pacentro perché c'è stata un'animità nella volontà di accoglierlo nel migliore dei modi. Siamo tutti molto felici e la sua presenza qui sicuramente dà molto lustro alla nostra cittadina. È un momento di visibilità anche questo unico decisamente. E ci può svelare qualcosa della visita che farà per il paese? Guardi, in realtà io non sono in grado di svelare dei segreti che poi in realtà non ci sono. Lui verrà in visita privata, tuttavia è chiaro che è necessario un certo livello di sicurezza, visto la personalità di cui parliamo. Visiterà, ha chiesto di visitare, di voler visitare la casa ancestrale, il monumento ai caduti, che sono poi quei punti fondamentali di abitamento di un uomo, cioè quello di pensare al proprio paese ricordando i caduti, immagino, e ovviamente alla casa dove sono nati i propri avi. Pacentro si è riempita, sono tantissime le persone in strada e qui c'è il clima della festa. Credo di essere un cugino di Mike Pompeo, perché i rispettivi bisnonni abitavano in due abitazioni limitrofe. Mio nonno e mio padre sono di Pacentro, io sono nato a Pacentro, peraltro in questa abitazione che è limitrofe a quella di Mike, costruendo un'ipotesi che mi è stata confermata anche dal vice sindaco, che i due bisnonni fossero tra di loro parenti diretti, dovrei esserlo necessariamente anch'io. Quindi oggi il suo cugino torna a casa, lei conta di incontrarlo? Io proverò a farlo, ma la vigilanza ha già escluso che sia possibile avvicinarsi a persone che non sono accreditate. Io sono Eufrasia Pompeo. Di Pacentro. Di Pacentro. E quindi forse avete qualche parente in comune col segretario di Stato? Esatto, esatto. È venuto apposta da Pescara, perché lei è abitato nell'Ohio e sono tre anni che sta qui a Pescara e è venuto apposta per incontrare, se ci riesce, Pompeo. Lei ha 96 anni e è del 23. Stiamo contenti perché prima era Madonna che ci ha fatto un po' famoso, adesso è il sindaco americano, Pompeo. Oggi è veramente una bellissima giornata per noi. Perché magari è anche l'occasione per far conoscere il paese. Certo, questo è molto importante per noi. E poi tra l'altro non solo lui, anche Madonna originaria. Sì, Madonna ha detto che non è venuto mai. Non è venuto. Ciao, Mr. Michael, I am Carlo Tollis.